Non più 200 metri ma 50. Un'ordinanza della Capitaneria di Porto, Guardia Costiera e il Santa Margherita Ligure ha ridotto l'ampiezza dello specchio acqueo in cui era vietata la balneazione e la navigazione per motivi di sicurezza. Il divieto era stato predisposto ad agosto sempre dalla Capitaneria dopo una segnalazione del Comune di Chiavari. L'area interdetta è quella compresa dalla zona del depuratore e il confine con il Comune di Zoagli, versante sul quale si contano 5 frane attive. La modifica dell'ordinanza è arrivata dopo un consulto con i tecnici geologi che hanno detto possa essere sufficiente il limite a 50 metri. La richiesta di ridurre l'ampiezza della zona vietata è arrivata da Coldiretti Pesca per tutelare il settore. Abbiamo dato delle spiegazioni operative anche con i pescatori che quotidianamente vanno lì a pescare dove si andava proprio a capire che comunque non franava fondamentalmente. Quindi nella complessità, nel fare tutta l'ordinanza hanno preso anche quel pezzo senza forse pensarci subito. Nella zona operano circa una decina di barche, soprattutto di piccola pesca, che arrivano da Santa Margherita. Adesso, per esempio, può iniziare fra poco la stagione, ci sono i naselli, ci sono le seppie, quindi questi sono alcuni esempi, poi dipende dal periodo. Comunque con le reti da posta, che sono appunto le reti che utilizzano le barche di piccola pesca, si utilizzano le varie tipologie di reti a seconda della stagionalità del pescato. La zona non sarà delimitata con boi o altri segnali, ma sarà indicata nella cartografia dell'ordinanza, quindi a disposizione di tutti coloro che guidano le imbarcazioni. L'istanza di col di reti per chiedere la modifica del divieto era stata presentata a fine agosto, una richiesta che è stata poi valutata dal comune di Chiavari e dalla Capitaneria. Grande disponibilità e collaborazione da parte della Capitaneria di Santa Margherita, ci siamo confrontati, abbiamo spiegato appunto, come detto, le varie problematiche e quindi successivamente abbiamo presentato comunque un'istanza formale, così come richiesto, e la Capitaneria si è attivata con il comune per verificare effettivamente la fattibilità della cosa.